Bentornati sul canale, oggi nuovo video unboxing, il buon Claudio ci è cascato per l'ennesima volta ha comprato un altro gadget a tema videoludico Sì, voi non avete mai visto il mio armadio, io sono strapieno di t-shirt, l'ho già detto in live Questo è il mio primo acquisto a tema cyberpunk, ma in realtà è il secondo Il primo è stato l'orecchino, che orecchino? Ma gli orecchini non erano lo stile cyberpunk Ma che è questo, di pare cyberpunk Vabbè, comunque, acquistato dal sito ufficiale di CD Projekt Red, è una t-shirt classica con il logo Voglio fare qualche piccola considerazione, innanzitutto il packaging è molto carino Praticamente ci danno una busta sigillata È una busta proprio a tema, adesso la apriamo Allora, innanzitutto mi ha appena cascato in mano un libretto Thank you for shopping, here is something extra Cosa? Va aperto Hai visto? La maglia sembra anche bellissima, tra l'altro Io spero che mi stia, ragazzi Perché ho preso una M, ma guardando le misure mi sembrava abbastanza grande Però la S non c'era, io ero molto furio Ma non è la prima cosa che abbiamo preso a tema cyberpunk Sono adesivi? Perché abbiamo le spille No, cioè ragazzi Allora, io voglio subito fare un parallelo tra l'acquisto che ho fatto per la t-shirt di cyberpunk E quello per la t-shirt di Death Stranding che vi lascio qua in alto a destra Non c'è assolutamente paragone, non so ancora quale sarà la qualità del prodotto che ho acquistato Però il servizio e il packaging sono già di tutt'altro livello Il sito di Kojima adesso ti vende prodotti a un prezzo relativamente alto Però quello non mi interessa, la merce è buona quindi ce li spendo volentieri Il problema è la spedizione, spedizioni relativamente lunghe Con poste, non con un corriere A 15 euro Ovviamente non ho più comprato niente da quando hanno messo questi prezzi folli Il discorso cyberpunk è relativamente diverso Io ho comprato dallo store europeo, dalla Polonia Ho pagato la t-shirt 20 e la spedizione 16 Però con UPS E mi è arrivata in pochissimo Veramente pochissimo Considera le ordinate giovedì da albi L'hai fatto di pomeriggio? Di sera Di sera, quindi scatta già il giorno dopo Giugno di sera Venerdì, sabato e domenica niente Non contano, sì Quindi per farvi un po' capire Comunque tra i 3 e i 5 giorni lavorativi Sì, ho avuto il tracking Ho avuto tutto Quindi sono 16 euro di spedizione Che comunque sono stato contento di aver speso E vabbè adesso vediamo Com'è il prodotto Tessuto direi bomba La stampa uguale, molto bella Dentro c'è scritto cyberpunk made in poland Men Tra l'altro ha un simbolo dietro Sì sì, è tutta piena questa C'è anche la toppa di CD Projekt Red Allora davanti abbiamo il logo cyberpunk Allora aspetta Di fianco abbiamo questi Che cosa cazzo sono? Mantis Blade System 3 100% cotone No ganzo C'è scritto come se io avessi la mod Le mantis blade 100% cotone Eh si sente Hai quality questa ragazzi Allora la t-shirt è comodissima Veramente comodissima La taglia è giusta Super morbida La taglia alla fin fine è giusta Dalle misure mi sembrava un po' più grande Però alla fin fine è come piace a me Quindi vediamo come si comporta sul lungo termine Se non si degrada la scritta Ma non credo No a me dà l'impressione di essere stampata molto bene Forse non l'ho presa nel periodo perfetto Visto che stiamo entrando in pieno inverno Però dall'altra parte l'ho presa nel periodo perfetto Perché tra pochissimo esce Cyberpunk Anche perché poi inizieremo anche una certa copertura Dedicata a Cyberpunk Si Vi preannunciamo che stiamo preparando un video Dedicato al Il mondo di Cyberpunk Il mondo di Cyberpunk Il libro Quindi un po' di contenuti arriveranno Qualcosa dovremmo fare anche una volta uscito il gioco Quindi poi Si poi faremo le date Se siete interessati continuate a seguirci Anche per questo genere di cose Quindi ragazzi noi vi salutiamo Vi diamo appuntamento al prossimo video Se volete acquistare la t-shirt Vi lasciamo il link in descrizione Un saluto dai Crude Dudes Ciao a tutti ragazzi